. Gocce di gossip, lutto per Ezio Greggio, torna prima a Festivale Indiscrezioni, Rumors, Pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velve Gocce di gossip. Questa volta vi parliamo di Ezio Greggio, Verissimo, Barbara Tabita, Prima Festival, Raffaella Fico. Ezio Greggio, e ora chiudiamo con un saluto molto speciale. . È venuta a mancare Nereo Greggio, il papà di Ezio. . A Ezio mandiamo un lungo e caloroso abbraccio, ha detto Michel Unziker in chiusura di puntata di Striscia la notizia nella serata di giovedì 25 gennaio 2018. . Verissimo, anticipazioni sugli ospiti della puntata del talk show condotta da Silvia Toffanini in onda sabato 27 gennaio alle 1600 su Canale 5. . Ci saranno Gigi D'Alessio, Stefano Accorsi e Kasia Smutniak, Francesco Moser, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Mara Beniette, Greta Scarano, Fabio Rovazzi. . Barbara Tabita, a 42 anni è quasi un miracolo, quasi non ci speravo più. . Ho avuto problemi gravissimi di salute, due anni fa sono stata colpita da una ischemia cerebrale e ho rischiato di morire, ma non mi sono mai arresa, ha dichiarato l'attrice attraverso il settimanale Spy. . Prima Festival, torna il notiziario Flash quotidiano per non perdersi nulla e arrivare pronti alla 68esima edizione del Festival di Sanremo in onda da venerdì 26 gennaio fino alla serata finale del 10 febbraio alle 20.30 circa su Rai 1 dalla Sala Biribissi del Casinò di Sanremo. . . Raffaella Fico, avevo solo 19 anni, non conoscevo bene l'ambiente dello spettacolo, il mio entourage mi aveva consigliato di raccontare quella cosa per far parlare di me, così dopo dieci anni l'ex bieffina ha svelato la bufala della sua verginità all'asta. . . . .